Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video news dove vi comunico che finalmente, oggi il 23 di settembre, è stato rilasciato in 1.0 Medieval Dynasty, quindi in 1.0, con diverse aggiunte, sono state aggiunte nuove storyline, nuove quest, nuovi edifici, banditi, banditi tanto agognati, cosa che veramente mancava a questo titolo, sono state aggiunti nuovi animali, le mappe sono state aggiornate e sono stati aggiunti nuovi item decorativi, insomma, e oltre a questo è scontato fino al 30 di settembre, se non ricordo male, da 29,99€ a 23,99€, quindi insomma ci sono parecchie cose. Inoltre, se non avete il gioco e volete godervelo un pochino, ci sono 30 ore di streaming non stop sul gioco, quindi ve lo potete godere così. Ha delle recensioni veramente pazzesche perché sono 15.000 e il 91% mi pare di recensioni positive, il gioco è anche in italiano, io non l'ho portato tanto sul canale perché l'ho fatto giusto all'inizio, però poi uno dei grandi limiti che ho è quello di dover trattare veramente troppa roba e quindi non sono riuscito a giocarci più di tanto, ne ho ovviamente approfittato ora per riscaricarmelo e magari riprovarmelo. Sarà da tenere d'occhio per l'anno prossimo questo Wild West Dynasty che sembra, diciamo, sulla falsa riga di quello che è questo Medieval Dynasty. E niente, diciamo che avete parecchie parecchie ore, possiamo andare a rivedere volendo le features di questo gioco, un open world, me lo ricordo con grafica bellissima, deve essere migliorata ancora, 4 stagioni, elementi interattivi, alberi da tagliare, frutti da raccogliere, il vostro villaggio da fondare, insomma, 18 edifici diversi appunto, 60 pezzi di equipaggiamento da creare, interazioni con animali, infatti potete poi anche avere l'asino, il cavallo, insomma, tutte le attività vanno in effetto su cibo, acqua, salute e resistenza, c'è un ampio albero dell'abilità, ci sono eventi e decisioni unici che poi sviluppano il corso della vostra storia, è un sistema di reputazione dinastia, missioni, commercio, economia, sandbox, si chiama Dynasty appunto perché andrete a fondare la vostra dinastia con i vostri figli che poi continueranno al posto vostro. Spero di avervi fatto una cosa gradita, di avervi ricordato questo, nel caso in cui vi fosse sfuggito questo rilascio veramente interessante per il mondo dei giochi che comunque in qualche modo nascono come degli indie games, fatemi sapere il vostro parire qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, comunque al video di domani, gioco molto interessante tra l'altro. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!